Bello Fede? Oh bello frate, tutto a posto te? Eh tutto a posto, niente, ti volevo fare una domanda perché devo organizzare un viaggio in Europa, non so da un bato, che mi consigli? Beh io ti consiglio Madrid perché comunque ci sono tanti posti da visitare e mi hai detto anche che ti piace l'ambito cinematografico Eh quindi? Eh a Madrid sarà girata anche la mia serie preferita, la casa di carta Ti sono alzato e ho trovato l'invaso Ah figo Ti posso fare una domanda? Dimmi Perché è proprio l'Europa scelta? Perché è un continente molto unito, poi ci sono tantissimi posti da visitare e ci sono legato Grazie a tutti Grazie a tutti